Ma per noi è stato importantissimo come Arci collaborare con la Regione e collaborare con Ancescao, perché pensiamo che l'associazionismo sia un tessuto importantissimo dello stare bene, in particolare nella nostra Regione, in Emilia Romagna, lo dicono tutte le statistiche. Siamo molto orgogliosi della nostra autonomia, però ci piace molto anche lavorare con altri soggetti e quindi in questo caso mantenendo ognuno le proprie idee, ognuno le proprie attività, siamo riusciti a fare un pezzo di strada insieme. Io credo che sarà importante anche in futuro perché ci sono tante situazioni dove insieme si può continuare a progettare, a fare volontariato, a tenere aperto degli spazi, quindi il mio augurio è che sia solo l'inizio.